Bene, in qualche modo sei riuscito a far incazzare sia i comunisti sia i mafiosi. Pare che Papino Holland sia nella merda fino al collo grazie a te. Il miglior modo per fare paura a un criminale è colpire il suo portafogli. Eh sì, ho sentito che Fran Pagani ha detto a Papino di riportare il culo agli scali. Papino non va da nessuna parte finché ci sei tu. Mi pare di capire che sia un bastardo con una scorza dura, un sopravvissuto. Grazie per il pensiero Pablo, ma ho avuto a che fare con gente peggiore di Papino. Vai a prendere quel comunista di merda di Holland. Come potesse! Come potesse! Come potesse! Come potesse! Come potesse! Come potesse! Valiare le insulti di questo storia. Sì, sì. Ah! Alla scoprì, lo dava a football con lui, tutto quello che doveva, nient'altro. Hmm. Quel figli... Secondo te devo chiedere ad Alice chi lavora nell'ufficio? Alice Holland Perché ti ricordi che suo padre è il tuo cazzo di capo E suo fratello è un pazzoide omicida Quindi pensi che sia una cattiva idea? Devi preoccuparti del negro che cerca di uccidere Propezie a lui Sì. 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 Sì, sì. Spero di non mancare di rispetto, papino. Ma non dovremo lavorare con quegli stronzi comuni. Sei fuori di testa? Merda, merda, merda! Facco! Lavora per me. E potrai continuare a fare quello che stai facendo. Ok, va bene. Sono con te. Sono felice di saperlo, papino.